Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Giovane 27enne di Gubbio perde la vita in un incidente stradale vicino a Cantiano, ferita l'altra persona che viaggiava con lui In Consiglio Comunale a Fanno, maggioranza e opposizione si spaccano sul nuovo regolamento degli arredi urbani che alla fine però viene approvato Le Marche sferzate dal maltempo, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, strade allagate, treni a rilento e linea triatica bloccata tra Pescara e Terra Da oggi scatta l'obbligo delle dotazioni invernali a bordo, ecco cosa c'è da sapere per non avere brutte sorprese Il Natale che non ti aspetti, presentata a Pesaro, l'iniziativa dei mercatini di qualità sparsi in tutta la provincia Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fanno TV, benvenuti a questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Partiamo dalla cronaca e dall'incidente stradale che c'è stato, dallo schianto mortale che c'è stato oggi pomeriggio lungo la via Flaminia A pochi chilometri dal passo della Contessa nel comune di Cantiano Un pick-up guidato da un 27enne di Gubbio è uscito di strada andando a sbattere contro un terrapieno laterale Il conducente è morto sul colpo, ferito il passeggero che sedeva al fianco Un 25enne anche lui di Gubbio che è stato trasportato all'ospedale Ugubino in condizioni non gravi Sul posto al momento dell'incidente batteva una forte pioggia, i rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale Intervenuti anche i vigili del fuoco di Cagli e il 118 Approvato in Consiglio Comunale ieri a Fano il regolamento per gli arredi urbani in centro storico Regolamento che però ha spaccato opposizione e maggioranza ed è un regolamento che sicuramente farà discutere Quello di ieri è stato un Consiglio Comunale con un corposo ordine del giorno Che ha portato l'Assisi a protarsi ben oltre la mezzanotte Tanti temi sul piatto, una richiesta di intervento sul tema degrado dei cimiteri urbani E qual è la reale situazione delle scuole fanesi, due interrogazioni del centro-destra che hanno aperto i lavori Ma degli otto punti in agenda, due sicuramente, stando ai rumors della giornata di oggi Avranno un seguito nelle prossime giornate, se non mesi Di stampo diametralmente diverso e anche di segno sociale opposto, come sono opposte le reazioni in merito Uno ha avuto la capacità di cementare le forze politiche E stiamo parlando della mozione presentata sempre dal centro-destra E passata con l'approvazione di entrambi gli schieramenti politici Dell'ex convitto Vittoria Colonna Per la sua trasformazione in un centro cure pediatriche palliative e centro polivalente sanitario Un'approvazione che ha accolto il compiacimento dell'associazione Maruzza Che aveva presentato il progetto di recupero e che da anni si batte per un centro di questo tipo Unico nella regione Marche L'altra proposta, proveniente invece dalla Giunta Di cui il relatore era l'assessore Marco Paolini Riguarda il regolamento sull'arredo urbano in centro storico Per le situazioni preesistenti come ci si potrà regolare? Per le situazioni preesistenti si dovranno adeguare in un certo periodo di tempo E quindi nel corso di anni, probabilmente non mesi E quindi semplicemente adegueranno le loro strutture a quelli che sono questi regolamenti O anche a tutto quello che vorranno invece con tutta libertà progettuale Proporre al Comune la sovrintendenza Quindi nel rispetto delle norme e delle leggi Perché queste ci sono, c'erano prima e ci sono anche ora Quindi vanno naturalmente rispettate Ecco, come dicevamo, questo regolamento è stato invece criticato E non votato invece dai grillini Allora, voi invece avete votato contro questo regolamento Perché? Quali sono le ragioni di questa decisione? Beh, essenzialmente permettiamo che comunque un regolamento per gli arredi urbani nel centro storico È necessario per Fano Ma è stato sbagliato completamente il metodo E quindi poi ne ha risentito anche il contenuto di questa delibera In effetti non sono stati in realtà coinvolti quasi assolutamente i commercianti Che insistono nel centro storico Se non forse una minima parte Quindi ci sono visti calare dall'alto questo regolamento Che è molto restrittivo purtroppo per loro Poi dopo semmai spiegheremo anche perché L'altro fatto è che appunto questo regolamento è stato calato dall'alto anche per i consiglieri comunali Quindi siamo stati completamente spogliati dal nostro ruolo istituzionale Nel proporre oppure portare delle modifiche anche all'interno del consiglio comunale Con la scusa che ormai la sovrintendenza aveva messo il bollino sopra questo regolamento E non si poteva più cambiare Quindi ci siamo ritrovati a fare dei passacarte Insomma per i cittadini che ci hanno eletti E che ci hanno dato un ruolo importante nel dare il meglio per la nostra città Questo ci sembra molto sminuente Quindi è molto importante capire che in realtà questo regolamento nasce con mille problematiche E non c'è stata data la possibilità assolutamente di metterci mano Quindi i risultati quali sono? È un regolamento molto restrittivo Con delle descrizioni molto minuziose degli arredi che si devono usare E anche molto costosi molto probabilmente Quindi sarà anche molto difficile per molti commercianti Che magari poi soprattutto in questo periodo di grave difficoltà economica Mettere mano al riordino dei loro arredi E quindi anche si cerca a questo punto di capire se appunto il regolamento Può essere talmente tanto limitante da far più dell'addirittura delle attività E questo è un problema molto molto grave La maggioranza è rimasta sorda ai nostri appelli Di rimettere mano anche magari fra qualche giorno E poi riproporre il documento in consiglio comunale Speriamo che i risultati non siano nefasti Anche perché comunque sia in altre città Ci sono dei regolamenti molto meno limitanti E aperti all'innovazione E dove i centri storici sono molto molto belli E quindi insomma da questo punto di vista Si poteva solo migliorare Adesso il maltempo Il maltempo che si è battuto sulla regione Marche Un maltempo diffuso con piogge abbondanti Vediamo com'è andata in questo servizio Non accenna a diminuire l'ondata di maltempo Che da ieri imperversa in particolare Sulle regioni adriatiche centrali A causa del vortice di bassa pressione Che molto lentamente si sposta dal basso tirreno Verso il canale di Sicilia Verso il suo centro converge Una perturbazione sospinta e alimentata Da forti correnti orientali Ne sono conseguite condizioni di tempo Molto perturbato Soprattutto tra Marche ed Abruzzo Nelle ultime ore con piogge In alcuni casi torrenziali Nelle basse Marche Nella zona del Piceno Le piogge intense hanno causato allagamenti Lungo la statale adriatica Come nel caso di San Benedetto Dove diversi sottopassi Sono stati temporaneamente chiusi Lungo la superstrada Ascolimare Si è proceduto a velocità ridotta Ciò nonostante un'automobile Si è ribaltata A causa del fondo stradale allagato Segnalati piccoli allagamenti Modeste frane Nelle zone collinari Intorno ad Ascoli Dove sono intervenuti I vigili del fuoco A Fano Le situazioni critiche Che si sono verificate Sono quelle che ormai da tempo Affliggono la città Il sottopasso del Lido La zona trave È diventata un lago artificiale E via le Ruggeri Che rispetto al passato Ora è solo invaso Da ciotoli della spiaggia Portate dalle onde più lunghe Ma comunque percorribile Ed alcune spiagge Nella zona sud Della città A cui il mare Ha portato via Qualche metro di sabbia Ma senza danneggiare Le strutture Vigili del fuoco Inoltre in azione Per rami pericolanti E sulla careggiata Un po' in tutta la regione E nella provincia Quota neve In risalita Sul nostro appennino Dove sta nevicando Oltre i 1400 1500 metri Nel pesarese E oltre i 1600 metri Sui sibillini Con notevoli accumuli Di neve fresca Ma solo Ad alta quota Le condizioni di maltempo Perdureranno Fino al fine settimana E sempre per quanto riguarda Il maltempo Va detto che La linea adriatica Che è stata interrotta Per gran parte Del pomeriggio Tra Monte Silvano Provincia di Pescara E Teramo È stata riattivata Però I treni sono in ritardo E hanno accumulato ritardi Fino a due ore Per chi invece Viaggia in macchina In automobile Da oggi Scatta Scatta L'obbligo Di avere a bordo Montate le gomme Invernali O comunque Di avere a bordo Le catene da neve Ma vediamo In questo servizio Quali sono Gli accorgimenti Per non incorrere In multe Anche salate Oggi 15 novembre Scatta l'obbligo Di circolazione Per gli autoveicoli Con le dotazioni Invernali Rispetto alla scorsa Stagione Il tempismo Meteorologico Della norma È perfetto L'apennino Tosco-Romagnolo È già sotto la neve Eppure la 14 Ha visto le sue corsie Imbiancate Montare le gomme Invernali Non è obbligatorio Con le stive Si può circolare Anche dove Dal 15 novembre Vingono le ordinanze Sui dispositivi Invernali Ma senza gomme Invernali È obbligatorio Avere nel bagagliaio Le catene Ovviamente Omologate L'omologazione È riportata Sulla confezione Ed è la misura giusta Buttare in auto Un paio di catene E qualsiasi È sconsigliabile Perché la polizia Ferma Controlla E nel caso Sanziona Altro escamotage Molto in voga Ultimamente Per evitare Il monta e smonta È la gomma Quattro stagioni Marchiata talvolta All'inglese All season Questi pneumatici Sono una via di mezzo Fra gli estivi E gli invernali Hanno l'omologazione M più S Dunque sono in regola Con le ordinanze Invernali E sono realizzati Con una mescola Che assicura Delle prestazioni In termini di tenuta E frenata Accettabili Sia con il caldo Sia con il freddo Con l'asciutto E con il bagnato Come pneumatici Sì Le quattro stagioni Stanno facendo Qualcosina in più Sono sempre Un compromesso Quindi È da valutare In base al cliente In base al chilometro È quello che Ecco si deve fare Anche qui ci sono Diverse fasce di prezzo Diciamo se possiamo Dare un orientamento Una buona quattro stagioni O una buona invernale Su che cifre siamo Una misura media Dai 90 ai 100 euro Un buon quattro stagioni Si trova A questo punto Avreste dovuto Già prendere l'appuntamento Con il vostro gommista Di fiducia E se questo Non lo avete fatto Sappiate che Se verrete pizzicati Andate incontro A una sanzione Di 85 euro E nel caso Di condizioni Meteo avverse O improvvise Come ci segnalano Gli organi di polizia stradale Potreste andare incontro Anche ad un fermo Tecnico del veicolo Oppure obbligati Ad aspettare Che il tempo migliori O essere dirottati Su strade diverse Per non incappare In tutto ciò Occhio ai segnali stradali Su moltissime strade Extraurbane E autostradali L'obbligo È segnalato Con gli appositi cartelli E sempre in tema Di strade Oltre 150 mila euro Verranno destinati Dalla provincia Di Pesaro E Urbino Alle strade Provinciali 115 Santa Vittoria E 41 Fratterosa Sulla provinciale 115 Evidenza il presidente Daniele Tagliolini Sono previsti Interventi Nel tratto Che collega La frazione Di Torre San Marco Con quella Di Santa Andrea Di Suasa Nei territori Di Fratterosa E Mondavio Con risanamento E rifacimento Del manto stradale Nelle parti Più danneggiate Per un importo Di 100 mila euro Sulla provinciale 41 invece Verranno fatti Lavori di bitumatura Per un importo Di 55 mila euro Il 23 settembre In un incontro A Fratterosa Ha riferito Il sindaco Alessandro Avaltroni Il presidente Della provincia Tagliolini Aveva preso Questo impegno E per questo Lo ringrazio Per averlo mantenuto I lavori inizieranno Nei primi mesi Del prossimo anno È stata inaugurata Ieri Nella frazione Di Tavernelle La nuova sede Delle associazioni Territoriali Alla cerimonia Erano presenti Il sindaco Di Colli Al Metauro Stefano Guzzi Gli amministratori Comunali E rappresentanti Di numerose associazioni La sede è stata ricavata Dalla vecchia scuola materna Chiusa ormai Da molti anni Ubicata a piano terra E priva di barriere Architettoniche È composta Da quattro stanze Una sala grande Per le riunioni Una cucina E un ampio giardino Nella nuova struttura Verranno ospitate L'Avis Di Tavernelle Calcinelli L'Auser L'Associazione Genitori Alunni Fuoriclasse E la proloco Di Serrungarina Inoltre Resterà a disposizione Di tutte quelle associazioni Che ne faranno richiesta Per svolgere Le loro attività Ed è stato presentato Questa mattina A Pesaro Il Natale Che non ti aspetti Una serie di iniziative Ma soprattutto Di mercatini Natalizi Di qualità Il Natale Che non ti aspetti In realtà È proprio ciò Che ti aspetti Bello Colorato Pieno di iniziative E di novità E che abbracci Tutto il territorio E le sue eccellenze Non solo mercatini Anche se di qualità Ma un circuito Di splendidi borghi Della costa Dell'entroterra Che creano Una situazione Avvolgente E ogni volta Diversa Un continuo Da ottobre A gennaio In cui ogni fine settimana Può essere vissuto Diversamente Il Natale Che non ti aspetti Della provincia Di Pesaro Urbino Messo a punto Con il supporto Della regione Marche Dall'UMPLI provinciale Grazie al determinante Intervento Della provincia È tutto questo La strategica posizione Delle Marche Dal punto di vista Geografico La promozione A livello nazionale Ha visto l'arrivo Nella scorsa stagione Di ben 240.000 Visitatori Confermando Che il percorso Intrapreso Nel 2011 Sta dando I suoi frutti Perché questo evento Diventi Il punto di riferimento Del centro Italia Per le iniziative Di stampo natalizio Se continueremo A lavorare bene Facendo sempre di più Crescere Questi eventi Queste opportunità Sicuramente Saremo sempre più Competitivi E i risultati Già si stanno Vedendo I luoghi Sono straordinari Le manifestazioni Sono molto belle È diventato Il Natale Che non ti aspetti Un brand nazionale Che dopo Io dico Dopo i mercatini Dell'Alto Adige È sicuramente diventato Un punto di riferimento Per i turisti A livello nazionale Ma anche All'estero Sono convinto Che negli anni Daremo del filo Da torcere Anche all'Alto Adige Perché la bellezza Dei nostri luoghi Li rende sicuramente Molto competitivi 14 proloco E comitati in rete Per altrettanti luoghi Dove vivere L'atmosfera natalizia Con ambientazioni uniche Artigianato locale Eccellenze territoriali E giovane imprese Che mostrano Il loro lavoro E soprattutto Volontariato Senza il quale Tutto questo movimento Di persone Non sarebbe possibile Se non ci fossero le proloco Noi non potremmo fare nulla Grazie a tutti i volontari Di tutte le proloco Della nostra provincia Ma in questo caso Abbiamo rappresentato E abbiamo oggi presentato Il Natale che non ti aspetti Abbiamo presentato Un luogo che secondo me È straordinario Perché rappresenta Veramente la nostra provincia Proprio rappresenta Quello che noi abbiamo Nel nostro territorio I nostri borghi E i nostri castelli Il Natale che non ti aspetti Della provincia di Piesurbino Quindi venite nel nostro territorio E venite a visitare I nostri borghi Perché non solo il Natale Ma ci sono anche da vedere Musei e tante altre cose La Kermes parte dal 25 di novembre Con Candelia Candelara Per poi seguire Mon Baroccio E tante altre località Durante una partita Un giovane giocatore di rugby Rinunciò a segnare una meta Per far realizzare un sogno Ad un suo compagno di squadra Ebbene questo splendido gesto sportivo È stato premiato dal CONI 9 1 8 7 Allora Giacomo Un premio Insomma che Insomma fa parte Del tuo bagaglio sportivo Che impressioni ti porti Che sensazione ti ha dato Mi ha dato una bella emozione E sono anche felice Di averlo ricevuto Perché ho fatto Questo gesto con Amore diciamo E l'ho fatto naturalmente Cioè All'inizio non me l'aspettavo Questo premio Perché L'ho fatto Naturalmente E volevo Solo dargli una gioia A questo ragazzo Grande Jan Allora spesso si dice Lo sport come scuola di vita Ma il rugby ha in sé Insomma nel DNA Proprio regole Che vanno anche Al di fuori del campo Insegna molto Da questo punto di vista Beh sicuramente Un premio prestigioso Un gran riconoscimento Per noi Per il nostro lavoro Abbiamo sempre posto attenzione Oltre che la parte sportiva Quella Diciamo umana A 360 gradi Quindi siamo molto contenti Sono ancora più contento Perché credo Che questo singolo gesto Esprima Quello che è Giacomo In realtà Quindi è andato Proprio la persona giusta Secondo me Come società sportiva Voi fate della promozione Anche a livello Dei ragazzi Dei giovani Un vostro punto cardine Questo può aiutare Ad avvicinare Giovani leve A questo sport Beh lo spero Sicuramente Diciamo che Effettivamente è stato Un gesto Quello di Giacomo E si ripete Forse più volte E l'occasione è stata Che è stato ben promosso Da noi E dalla stampa E quindi siamo stati Per un conto fortunati E spero Sia un Veicolante Per portare altri ragazzini Al campo Sicuramente Bravo Giacomo E a proposito di campioni Sia nel campo Che fuori dal campo Vi ricordo che Dopo box E in cucina Con lo chef C'è un'altra campionessa Una campionessa Come Giusy Versace Che ha ricevuto Nei giorni scorsi Un premio Il premio Volpini Ve lo trasmetteremo Subito dopo I nostri programmi Che vi ho appena detto Io mi fermo qui L'informazione torna Domani mattina Alle 7.30 Con occhio Ai giornali In diretta Grazie per averci seguito Buona serata a tutti